Amici di Raiuno, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Ultimo giorno dell'anno che coincide con l'inizio della settimana caratterizzata da viabilità fluida sulla rete, nonostante la presenza di nebbia su molti tratti sia stradali che autostradali, in particolare sulla 1, sulla 12, sulla 14 tra Ancona e Loreto e sulla 13 tra Rovigo e Monselice e sulla 4 tra Padova e Vicenza, ma anche da presenza di vento forte, in particolare sulla caserta Salerno. Come di consueto monitoriamo i real time, le immagini ci giungono in diretta dall'area milanese, qui siamo allo svinco di Sesso San Giovanni, di solito questo tratto è molto trafficato, invece si viaggia agevolmente. Scendiamo alla diramazione di Roma a sud, alle porte della capitale, qui abbiamo flussi veicolari vivaci e come vedete la viabilità è anche penalizzata dalla nebbia. Ma inizio nelle comunicarvi che la strada statale 43 della Val di Non è chiusa per cantiere di lavoro tra Clesse e Tassullo. Ci spostiamo sulla 14 perché si sta ripristinando il manto stradale a seguito di un incidente, quindi questo ripristino sulla 14 tra Teramo e Val Bibrata. Ci spostiamo in Calabria sulla strada statale 107 perché in questo momento ci sono i rallentamenti sulla Silana crotonese per Nevischio tra Cerenzia e Camigliatello e ancora sulla strada statale 177 Silana di Rossano. Rallentamenti questa volta sono motivati da presenza di ghiaccio tra la strada statale 282 delle Fossate fino a Punta Dura. Mi avvio verso la conclusione, uno sguardo al tempo, le previsioni del tempo, comunicateci dell'aeronautica militare, indicano variabili al sud con qualche piovasco e nubi in aumento sul settore adriatico, poco nuvoloso altruve. Grazie per l'attenzione, da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità in collaborazione con il Centro Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale. L'augurio di una bellissima giornata, una bellissima fine d'anno. Grazie per l'attenzione, fate buone feste e vi date con prudenza e adesso la linea va a uno mattina. Arrivederci.